Buongiorno e buona giornata, nonostante un po' di raffreddore cari amici quindi è il tempo anche che non è tanto buono, facciamo un aggiornamento sulla card attuale del PPV evento speciale della Impact Wrestling o conosciuta anche come DNA di Bound for Glory 2020 e si discuterà il 24 ottobre sul poster come vedete anche dall'immagine di video copertina c'è scritto live quindi si pensa che sia in diretta poi non sappiamo. Allora abbiamo parlato anche l'altro giorno di Eric Young contro Rick Swann per il titolo massimo mondiale detenuto da Eric Young grazie alla vittoria dello stesso Eric contro Eddie Edwards a Victory Road. Donna Burrasso anche lei vincendo un incontro a Victory Road si è assicurata la difesa titolata dell'Impact Knockout Championship contro Kyle Ray. Altro match che fu annunciato mi sa settimana scorsa tramite Victory Road i Motor City Machine Guns Alex Shelley e Chris Sabin con The Good Brothers Adesso Doc Gallows e Carl Anderson contro Ed Nard e Tampeggio Josh Alexander contro Ace Austin e Madban Falton in un 4-way tag team per i titoli mondiali di coppia. Poi questo credo annunciato tramite l'ultima puntata di Impact che me la la gusserò più tardi e la gusserò più tardi. Roit, Rayu, Condro, Chris Bay, Jordan Grace, Dre Miguel, DJP e Willie Mack in un 6-way intergender quindi vedete c'è anche Jordan Grace che è una donna per il titolo Impact X Division che come vi ho detto in secondo caso è paragonabile questo dibaldito intercontinentale della WWE. Quindi ma penso che verranno annunciati altri match già da settimana prossima della prossima puntata di Impact. Noi ci vediamo per altri video quest'oggi. Probabile che esca fuori anche un deluxe Zecchillo Show Pro sempre tramite remoto perché il tempo è brutto. Poi sapete che le nuove restrizioni praticamente ci hanno fatto tornare a tornare a marzo, mascherine anche nei luoghi aperti, quindi anche per la strada, multe insomma. Siamo al punto di partenza, siamo al punto di partenza, mamma mia. Oh scusate lo sclero però. Bene quindi ci ricomponiamo ai prossimi video, buon proseguimento di giornata e alla prossima. Ciao!